A seguito delle dimissioni del consigliere Max Floriani, già dalla seduta del 5 aprile a sedere al suo posto tra i banchi del civico consesso, ci sarà Tommaso Ulivieri, segretario e portavoce di Arco Bene Comune e sostenitore del programma politico dell'amministrazione. Particolare di non poco conto se si guarda al percorso degli interessati, inizialmente appartenenti entrambi allo stesso gruppo politico, salvo poi prendere strade diverse dopo le ultime elezioni. Il 5 aprile, in quello che sarà un consiglio prettamente incentrato sulla questione teatro, ci sarà la surroga e l'ufficialità dell'ingresso di Ulivieri. Il consigliere, da tempo pronto alla sfida politica, ha intenzione di non fare pesare le vicende passate per contribuire attivamente al proseguio del programma politico condiviso con Betta e le altre forze politiche.